Amici, buonasera a tutti, è sempre un grande piacere essere qui. Questa sera vi farò ascoltare un brano musicale, anche questa è una musica conosciuta molto, negli anni Santa specialmente si sentiva molto, La Plaga. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 Ne prendo, ne prendo di papere, ne prendo parecchie! Ciao!